Il benessere delle persone è strettamente legato alla qualità della vita del territorio in cui si vive. A partire da questa consapevolezza, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano negli ultimi anni ha rinnovato il suo modo di sostenere gli enti del terzo settore della provincia di Pesaro Urbino. Ha scelto infatti il crowdfunding come metodo di raccolta fondi più adatto a coinvolgere la comunità. E si è tenuto sabato scorso al Museo del Balì a Saltara di Coglio e il Metauro un focus per inquadrare le forme di volontariato e come esse si intersecano nella strategia di promozione sociale con l'appuntamento intitolato Il crowdfunding, una risorsa per il terzo settore. Un'idea che ci era venuta è un esperimento e visto il successo e la partecipazione con la terza edizione ormai terminata il 31 di gennaio possiamo dire che ormai è diventata una realtà e penso una realtà importante per il terzo settore. L'incontro di oggi, crowdfunding, una risorsa per il terzo settore vuole appunto sottolineare questa iniziativa della Fondazione che costituisce certamente un percorso importante per tutti gli enti del terzo settore. Al fine di perseguire scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano presenta il bando crowdfunding giunto alla sua quarta addizione, prova tangibile per valorizzare i progetti di natura sociale. Avete scelto la formula del crowdfunding, perché è vincente secondo lei Presidente? Ma è vincente perché nella misura in cui un progetto, un'idea di intervento su uno degli ambiti di riferimento della Fondazione è tradotta in un progetto leggibile, comprensibile, la comunità risponde perché se il progetto dà risposte a dei bisogni del territorio ci rendiamo conto che non c'è una insensibilità, anzi c'è una grande partecipazione. Questi tre anni di esperienza del crowdfunding ci danno un dato importantissimo che per ogni euro che mette a disposizione la Fondazione per questa iniziativa se ne raccolgono due sul mercato, quindi è un moltiplicatore molto importante. Nel corso del triennio i progetti che sono stati presentati sono una sessantina di questi non tutti hanno raggiunto l'obiettivo che si erano prefissi ma complessivamente comunque tra risorse messe a disposizione della Fondazione e risorse raccolte dalla comunità si sono mossi oltre 700 mila euro quindi penso che sia un importo molto importante a cui si aggiungono anche quelli che quest'anno con il bando del 2024 la Fondazione metterà a disposizione con un termine che è quello della presentazione dei progetti nel mese di luglio di quest'anno. Il bando emesso in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato della Regione Marche con la piattaforma Rete del Dono è indirizzata ad una campagna di crowdfunding che verrà integrata con risorse messe a disposizione dalla Fondazione. Per noi è davvero un piacere partecipare nuovamente a questa iniziativa un'iniziativa che ha l'obiettivo in primis di coinvolgere il territorio e la comunità intorno ai progetti e alle iniziative che le organizzazioni del territorio portano avanti durante l'anno. Il crowdfunding infatti diventa quindi non un mero strumento di raccolta fondi ma una grande opportunità di coinvolgimento e di ampliamento della comunità in termini di partecipazione al dono. Dono visto come davvero un modo per cementare le alleanze e per partecipare in modo attivo alla realizzazione di progetti che hanno un impatto sociale sul territorio e quindi un beneficio a tutti gli effetti per l'intera comunità. In un'epoca di collaborazione, citando Erin Ford, mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progetto, lavorare insieme è un successo.